sei andato in questura o all'ambasciata per chiedere il rinnovo o rilascio del passaporto tuttavia è andata male ti hanno rimandato a casa dicendoti che c'è una segnalazione non sai cosa fare poiché non ti hanno specificato il problema ma ti hanno soltanto consigliato di rivolgerti ad un avvocato se vuoi capire quello che sta accadendo e risolvere il tuo problema con il passaporto ti consiglio di guardare il video completo cliccando in basso avvocato penalista giuseppe pappa il diritto penale diventa semplice